attenzione l'ala di isolamento è interdetta alle squadre di manutenzione e non siano scordate da un ufficiale della milizia l'attraversamento deve essere concordato con una settimana di anticipo sembra se c'è nessuno ciao all'interrogatorio immagino sarà pieno di strumenti utili all'interrogatorio visto lo stile di queste di questo posto devo guardare prima del buco della serratura solo scalpello e martello abbraccio pensavo peggio c'è il ritratto dell'amico magretto un audiografo però se lo accendo fa casino qui c'è qualcuno no allora lo accendo corvo è ancora privo di sensi anche perché ha sopportato il doppio delle torture di qualsiasi altro interrogato sono duro riprenderemo quando si sveglierà non è fondamentale che firmi la confessione dell'omicidio ma potrebbe tornarci utile in seguito l'assassinio di un'imperatrice non è cosa da poco non è cosa da poco corvo attano questo è il cognome esportatore reale lo condotto dall'interrogatorio si tratta di una faccenda della massima importanza il loro dirigente è l'altro sacerdote Campbell condurando personalmente l'interrogatorio segui i loro ordini senza esitare e tieni sotto controllo il torturatore se il corvo morirà per mano sua e non durante un'esecuzione pubblica come vuole il loro dirigente la tua testa sarà la prossima a rotolare legge il tutorial sul diario quale tutorial? per accedere al diario leggerli indizi di missione trovare le informazioni sull'equipacemente gestire tutti i poteri soprannaturali quindi obiettivi adesso devo raccogliere l'esplosivo indizi di missione oggetti di missione messaggi quelli che ho raccolto si ok inventari al momento le monete ricostituenti le varie chiavi armi munizioni nessun potenziamento va buono va buono prendiamo piassiamo la bomba apriamo la pisa forte e prendiamo la bomba corredore della sala comande oh stiamo giù attenzione l'ala di isolamento è interdetta alle squadre di manutenzione che non siano scordate da un ufficiale della milizia no cos'era allora? glitch grafico questi si allontanano quindi io mi metto cavolo mi metto qui al buio tranqui tranqui quanti anni hai detto che ha tua sorella? silenzio dunque se posso evitare di combattere o evito questo passo no adesso qui speriamo di non mi vedano però qui c'è la luce devo affatto oh attenzione l'esecuzione di mani sarà riservata al solo personale assegnato all'evento e ai dignitari autorizzati non tutti amavano l'imperatrice ma io si sto al buio c'è tanta luce comandi della porta dovrei entrare nella guardiola quando il tizio è girato mi pare che lì non ci sia il vetro qui si no è rotto devo entrare silenziosamente mentre l'ho girato e devo analizzarlo vediamo qualcuno qualcuno mi aiuti cazzo addosso addosso l'ala di ah ha fatto una parata con possibilità di contrattacco non riesco a farne una decente come come stealth vabbè io avrei dovuto arrivare qui fare no avrei dovuto superare questa finestra ecco cosa qui e neutralizzare il tizio vabbè l'ho neutralizzato lo stesso ma in un altro modo dunque ora posso camminare a luce mi piacciono queste monete stile grafico i pentagonali sono fighe no no i pentagonali i pentagonali ci sono gli amici ehi mi vendi la tua dose quotidiana di Elisir e altala pure drogati ok potrei il riscatato su neutralizzare l'amico qua oh ma l'aria l'ho detto qui ok ora c'è il tizio è girato da questa parte eccolo là ce n'è un altro no 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 ecco è il momento è il momento è il momento ma posso anche molarlo qua cosa è qui dunque cosa abbiamo qui qui di bello tante cose da prendere usa leva immagino che aprirà la porta ah no chiude quella vabbè qui devo piazzare la bomba la bomba deve aver fatto un po' di rumore oh è il ponte cosa faccio mi butto ah si cosa abbiamo non lo so sono i tizi che mi aspettano no dai non mi hanno visto le fogne come al solito sempre le fogne costantemente le fogne vai alle fogne resta nella prigione di conto dici perché dovrei restare andiamo alle fogne andiamo alle fogne dove sono le mie armi ratto infatti ha ragione pieno di ratti potrebbero essercene alcune bene cosa abbiamo corvo se legge questo messaggio vuol dire che il piano ha funzionato prendi l'equipaggiamente e raggiungi somewhere si ma perché dovrebbero nascondere delle armi ce le avevo già capisco perché dovrebbero essere scomparse ora non si può aprire quindi devo passare da qua su è un ciclone è un ciclone spero di essere io a trovarlo lo spero anch'io che schifo ratto i carnivori beh hanno fatto il lavoro per me ecco mangiato di puro lì che io li evito è un ciclone è un ciclone Gira, gira, manovella. Niente. Niente. No tamping. Oh. Do we need to load the cadavres on the cars straight to the subway? Yes, but I'm sorry. It's too far. I don't want to kill the pest. You? No, but the Elisir doesn't prevent it. Forse, in ogni caso, buttiamoli giù e che ci pensi noi topi. Ah no, mi sa che devo stare... ...sulla terra. Eh. È evidente. Ok. Noi topi lì fanno veramente schifo. Che faccio? Mi lancio da quella parte lì. Ok. No! Questo cadavere, questi cadavere qua, non saranno utili probabilmente. e che devo arrivare alla manovella e tenerli a bada. Quindi, lo lanciamo magari lontano. Alla faccia del lontano. Sono spostati? No. No. Perché no? È qui. Ah. Inutili. Schifosi. Non siete altro. Eh. Ve lo butto là. Dai su. Sgranocchiatelo. Dai. Up. Bravi. Ah no. Mi sa che devo... Troppo poco. Devo buttargliene alcun altro. Dai. Lancialo. Speriamo siamo abbastanza. Vai, 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 vai. Uff. Uff. Attenzione. Cittadini di Dunborn. Corvo. L'assassino della nostra amata imperatrice. Il rapitore del re del trono. Lady Emily. È riuscito a sfuggire alla custodia. Sì. Ha ucciso alcuni coraggiosi pubblici ufficiali. Sì. Deve essere catturato o eliminato ad ogni costo. No. Dunque. Andiamo qui. Nessuno. Hop. C'è del smangiucchiamento però qui sono già a posto. Bottiglia a vuoto. Trasporta. Posso lanciarla in testa di qualcuno? Però fa un casino. Tremendo. Filo di rame. Deve essere utile a qualcosa il filo di rame. Non so me lo fa. Ah. Trappolone. 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 Wow. Eh che cacchia. Pensavo si disattivasse. Vabbè. For rent. Dardo incendiario. Carino. Un filo di rame. Oh. Beh. Questa non l'ho vista. Vabbè tanto ormai. Un filo di rame. Ehm. Qui abbiamo. Qui abbiamo. Qui ci sono gli incendiamenti. Ehm. Qui cosa abbiamo? siamo un gruppo di lealisti servitori dell'impero della vera imperatrice, non vediamo l'ora di incontrarti quindi sono questi i miei amici, raggiungi Sam e il nostro uomo vicino al punto in cui le gallerie sboccano nel fiume Lufranhaven, buona fortuna grazie chiave un po' di robetta, mi piace molto più silenziace della pistola mi piace ok regge il tutorial della selezione rapida tieni premuto per accedere la selezione rapida, selezione all'oggetto, il potere ok il tasto centrale assegno un armo a un tasto, scelta rapida, scegliendo bla 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 quindi quindi io posso ah ci sono i dardi, le munizioni che posso usare uno, due, tre, quattro qui c'è uno ah ok la pistola due la balestra tre la balestra con sembra un soldifero un veleno e il quarto la dardo esplosivo ok direi che sto sul due sto sul due ahhh non chiuso abbiamo qui l'amico qui l'amico può anche andare a sentire il bagnetto e io devo girare oh eccoci ah 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 aprimici per scivolare ah mentre scatti ok yuhuu che cosa abbiamo nel caso tu sia troppo stupida per ricordarlo cerca la risposta nel tuo whisky nel whisky capito? jelly capirei cosa intendo se la se vuoi la tua parte nel whisky quindi c'è una specie di di tesoro combinazione richiesta c'è la combinazione qualche cassetta di whisky o di qualcosa magari troverò qui intorno cosa faccio? mi arrapico il whisky non lo farò passare signore lo sai è chi diamo la caccia non affrontarlo da solo e se in giro non c'è nessun altro della squadra allora fai molto rumore mentre muori butta giù qualcosa se ci riesci ah bastardo bella questa bottiglia vuota erbe medicinali qui puzza di piangente morto mi devo ancora capire che ci sono sti piangenti mi devo ancora capire che ci sono sti piangenti mi devo ancora capire che ci sono sti piangenti ehm ok cadendo però insomma ah qui c'è interessante vengono qui per morire al buio entra in acqua e non uscirne qui c'è una bottiglia che mi sa che se la tocco cade e fa tanto tanto casino ehm vado giù da qui ah c'è il tutorial del salto omicida chissà quant'è profondo lasciati cadere dall'alto su un nemig premi tasto sinistra poco prima di colpirlo per eseguire un salto omicida non subirai danni per la caduta spero non riesco a vedere il fondo faccia troppo casino oh no dai ehm il suo amico non so dove sia però è meglio che ehm lo metto qui il cadavere ok 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 qui c'era l'amico ah qui parlava non mi dovevi una bevuta vi prego non dov'è? ah qui c'è un buon punto no 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 se colpisco questo con la balestra merda sta succedendo qualcosa no no non succede niente dormi tranquillo non succede niente non succede niente non succede niente dunque l'altro è andato ah di la adesso lì è colpire la luce dobbiamo ammazzarmi quello la così per curiosità ah no l'altro tasto eh adesso si muove ah potrei usare la bottiglia per attirare la loro attenzione da un'altra parte però faccio un attacco doppio non so neanche come farlo se si può fare dunque 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 proviamo a colpirlo ora mi sono caduto in acqua ahahah però non sembra allora ah mi sa che se ne è accorto dai io non riesco a salire si è brutto schifo peloso no non si è accorto di niente stava parlando col topo ti troverò maledetto se ne è accorto attenzione se ne è accorto attenzione non puoi nasconderti per sempre dove sei finito qui e si sposta e si sposta di mano alle spalle dai dai non resterai nascosto a lungo un cadavere parassita un cadavere quindi la vista ti troverò ok prendiamo la bottiglia ah ne è venuto su un altro ti distruggerò piccolo bastardo ti troverò vedrai o si sono allertati dalla bottiglia questo non va bene aiutatemi a trovarmi lo so che sei qui ah so che sei da queste parti cavolo sta venendo qua si nasconde cerchiamo ovunque cavolo eccolo fine direi che passo la pistola il sistema di parate e risposte non è male io volevo fare una completazione stealth ma è difficile è difficile vabbè ritorniamo alla destra il comandamento è molto rapido non difficile allo stesso tempo richiedo un minimo di coordinazione ratti schifosi ratti schifosi yes smaciullati non che